Salve ragazzi, questo qui è un video di prova della fonovaligia Senza il motore però, perchè il motore c'è, però non è ancora collegato perchè non so come pilotarlo in modo da ottenere la velocità giusta Abbiamo l'alimentazione solo all'amplificatore, ho anche cambiato la cassa e ne ho messo una migliore, adesso proviamo va? Siamo qui, l'amplificatore è acceso, ora uso un disco di prova, è proprio il primo che ho trovato che mi ha dato mia zia, però dovrebbe andare Come potenziometro va bene questo Ecco che come al solito nella prova c'è un problema Aspettate che la riapro, controllo, un momento Ok, ora va, era solamente un piccolo problemino Era così Piccolo problema, adesso siamo pronti Ok 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 Aspettate un momento che l'ho sposto, non si chiude la fonovaligia Ok Sono veramente forte Aspettate che trovo qualcos'altro Scusate per il casino qui ma Ok 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 se qualcuno sa dirmi che potenziometro potrei mettergli grazie Grazie a tutti. Bene, come prima prova possiamo dire che il suono è abbastanza buono, va bene, ma la cosa che rimane è il motore, fatemi sapere, grazie. Grazie a tutti. Ciao.